La Bocca della Verità si trova all'esterno della chiesa di Santa Maria in Cosmedin, in piazza Bocca della Verità 18, a Roma. È sufficiente prendere la linea B della metropolitana e scendere alla fermata Circo Massimo, ci si troverà a pochi centinaia di metri. In alternativa è consigliato scendere alla stazione Colosseo, proseguire a piedi percorrendo tutto il Circo Massimo, per poi raggiungere Piazza Bocca della Verità, contrassegnata con la freccia verde. È un antico mascherone di marmo, murato nella parte esterna della chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Il suo nome deriva da un'antica tradizione. Chi prestava giuramento inserendovi la mano, non avrebbe potuto ritirarla se diceva il falso. I maligni dell'epoca insinuavano che l'oracolo che mozzava la mano venisse aiutato dai giudici che ponevano dietro il mascherone un boi armato di una spada affilata. Molto probabilmente si tratta di un antico chiusino di una fontana o di una cloaca. Un'altra versione lo indica come copertura di un pozzo sacro del Tempio di Bercurio nel Foro Buario. La Bocca della Verità è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19. L'ingresso è gratuito. Per informazioni rivolgersi allo 0667-81419. Per visite guidate rivolgersi alla cooperativa Il Sogno 06 85 30 17 58. Se volete continuare la vostra visita a Roma potete proseguire per il centro. Potete tornare al Circo Massimo e prendere la metropolitana oppure con i bus 75 81 175 673 o 810 nelle immediate vicinanze della Bocca della Verità. Per scaricare queste ed altre guide, mappe per cellulari e lettori portatili, audio e video, visitate www.freeaudiowide.com